Oggi nelle città della Piana del Sele di Battipaglia ed Eboli c'è grande attesa per sapere chi sarà il sindaco eletto dal popolo. Ma il primo dato che emerge in questi due giorni di ballottaggio è la scarsa affluenza e seggi in entrambi i comuni. Come messi in evidenza dei dati sui votanti alle ore 23 di ieri, il numero degli elettori era sotto il 40%. Nelle urne per i ballottaggi di Battipaglia ed Eboli, almeno fino a ieri, ha vinto il partito dell'astenzione. Infatti, sia a Battipaglia, dove si contendono la fascia tricolore Cecilio Francese ed Antonio Visconti, che ad Eboli, dove sono in corsa per la carica di sindaco Mario Conte ed Antonio Cuomo, i dati sui votanti sono davvero ai minimi termini. Il resoconto finale delle ore 23 di ieri a Battipaglia, la chiusura dei seggi, ha fatto registrare una percentuale dei votanti del 38,45%, pari a 15.962 persone che avevano espresso la loro preferenza contro il 52,50% del primo turno, ossia 21.800 preferenze. Nella vicina Eboli è emerso quasi lo stesso deludente dato. Hanno votato 10.938 cittadini, ovvero il 36,22% degli aventi diritto al voto. Alla stessa ora, al primo turno, votò il 49,45%. Si aspetta adesso il compoto totale nel primo pomeriggio, prima dello spoglio, che eleggerà i due sindaci che indosseranno poi con la proclamazione, forse già domani, la tanto attesa fascia tricolore.